...questo vediamo, entrata punita con il cartellino giallo, provvedimento giusto a termine di regolamento anche se non c'era cattiveria, vedi voleva prendere la palla lo stesso a palla recuperato, libera il tiro, la deviazione sopra la traversa lo stesso a palla recuperato, va con il tocco corto parata eccezionale questa va con il tocco corto l'arbitro estrae il giallo per questo intervento sanzione corretta, non era un fallo cattivo, però la munizione ci sta tutta pericolo, palla persa prova a far partire il tiro 1-0, primo gol fondamentale, ora vediamo se reagiranno si rivelerà efficace ha il pallone del pareggio un gran peccato per loro, poteva essere il gol del pari brutto errore questo, potrebbe pesare come un macigno sul resto del... sono sotto di un gol, vedremo se... Vignato a metri per andare e c'è il gol, parità dunque Vignato taglia in due la difesa con questo lancio, attenzione conclusione che manca di poco lo specchio della porta aveva solo il portiere da battere Pier, ma nel momento decisivo ha puntato sulla forza meno potenza grazie grazie prekk ho Grazie.